La campagna elettorale sembra aver trovato terreno fertile a Palazzo Alfieri. L'assessore Angela Quaglia ha organizzato un sopralluogo per chiarire i dubbi dei consiglieri comunali che chiedevano chiarimenti sull'andamento dei lavori. Noi per Asti aveva infatti presentato interrogazioni in consiglio per far chiarezza sui conti del Palazzo. La visita è avvenuta a poche settimane di distanza dall'incontro convocato dalla Quaglia per far chiarezza su quanti finanziamenti sono arrivati e quanti ne mancano ancora. L'assessore aveva infatti organizzato un incontro con l'architetto Roberto Nivolo, direttore dei lavori, e Carla Forno, direttrice del Centro Nazionale di Studi Alfieri. Insieme avevano scoperto le carte e reso il tutto trasparente. Periodicamente, e cioè ogni cinque anni, si torna a parlare di Palazzo Alfieri. Io sabato ho organizzato questo sopralluogo e abbiamo visitato insieme ai consiglieri che hanno voluto partecipare, abbiamo visitato tutto il Palazzo, abbiamo visto le opere di restauro compiute che sono imponenti, abbiamo ragionato sulla complessità di questi restauri e abbiamo esaminato i conti che abbiamo anche tradotto in un volantino molto di facile lettura da cui si capisce che è tutto chiaramente documentato e tutto assolutamente trasparente. Finora sono stati spesi un po' di soldi e certamente non sono ancora sufficienti per completare quello che noi riteniamo sia una delle eccellenze cittadine, cioè la Casa di Alfieri, la Biblioteca di Alfieri e tutti gli spazi che intorno a questo possono creare turismo. Occorre uno sforzo ulteriore, noi abbiamo cercato di chiarire, di chiarire che i soldi non sono stati spesi male, abbiamo cercato di documentare, credo che ci siamo riusciti, adesso occorre uno sforzo di solidarietà di tutta la città, di tutte le istituzioni, di tutte le fondazioni bancarie per dare l'ultimo colpo definitivo e finalmente riaprire questo palazzo.